Hola ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, eccoci qui oggi con Jumanji Wild Adventures che dite ragazzi, lo vogliamo provare, l'ho visto su Steam e mi sono detto vabbè dai possiamo anche provare questo titolo visto e considerato che è uscito da un pochino di tempo vorrei provare anche altri titoli e niente ragazzi, andiamo subito con Gioca, vediamo un po' dunque partite salvate, 0, ok, quindi ragazzi andiamo con il primo, dunque allora vediamo un po', vite infinite, cadendo si perde solo mezzo cuore, se perdi 3 vite riparterai dal punto di controllo, se cadi perdi un cuore, se perdi 3 vite si riparte dal checkpoint, se cadi perdi un cuore i nemici colpiscono più forte, dunque ragazzi allora vediamo un po', possiamo fare anche una media, quindi se perdiamo ben 3 vite ripartiremo dal punto di controllo, se cadi perdi un cuore, già così è molto molto più semplice, diciamo 3 virgolette più semplice, poi naturalmente c'è anche la difficoltà Jumanji, quindi no facciamo una media dai, e naturalmente ragazzi niente musiche di sottofondo perché non vorrei essere beccato per copyright il video. Ok dunque vediamo un po', vediamo un po', iniziamo va', naturalmente ragazzi siamo su PC, smulder, e beh guarda, si infatti molto molto enorme direi, e come detto ragazzi allora siamo su PC, stiamo praticamente giocando con il controller, quindi schiva, occhio, aspetta, occhio, bene, perfetto, aspetta, no, non di là, attiva, perfetto, e calpesta, 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 dai e fagli male, fagli male, a sto brutto fanfarone qua, dai e, aspetta, occhio, aspetta, eccomi, eccomi buon uomo, eccomi, colpisci, 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 aia, ma mi ha beccato, si mi ha beccato malamente, ma molto malamente, aspetta, eccomi, dai e, dai e così, però aspetta, lui mi dice di calpestare, ah, forse magari lo devo prima salirci su, che è detta così suona male, ma vabbè, ci siamo capiti eh, dai e, occhio, occhio, olè, aspetta, salta su, ah ok, lo dovevo calpestare così, ecca la, ecco, e mo te voglio qua eh, occhio, salta, olè, vabbè, mo inizia a farsi un po' più difficile eh, aspetta, occhio, oh no 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 no, aspetta, ok, perfetto, l'ho appestato uno, dai un po', dai un po', che ti, occhio, aspetta, 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 aia, madonna mia, mi ha fatto malerimo, aspetta, no perché quando mi dice poi dopo di scivolare eh, non risponde tanto tanto ai comandi, diciamo così tra virgolette, occhio, dai su, occhio, no cavolo là no, là c'è una perdita, quindi meglio starci lontani, aocchio, aspetta, scivola, cioè scivola, schiva volevo dire, non scivola, occhio, eccomi buon uomo, aspetta, ok, dai e dai e così, fagli male, fagli male, cavolo, però quando si, quando fa così, mo che è rimasta, oh, oddio santo, no, aspetta, mo che è rimasta a capoccia, no, appunto, e niente, va bene, mi sa che ci siamo schiantati malamente contro scogli e roba del genere, ok, Nigel, va bene, benvenuti avvettorieri, sono la guida sul campo di Jumanji, Nigel Billingsley al vostro servizio, sì, lo sappiamo, Nigel, potrebbero dare qualcos'altro da dire a questo ragazzo, mi stavo aspettando, dicevo, Jumanji è? in grave pericolo, lo sappiamo, c'è appena attaccati un kraken, il cielo si è fatto scuro, gli animali sono impazziti, può esserci un solo motivo per tutto ciò, sarà passata mia zia Irene da queste parti, che voi, shh, fate attenzione, il gioiello di Jumanji è un manufatto antico che protegge il territorio, dalle maledizioni e dalla sfortuna, è anche una fonte di grande potenza, come dicevo, non possiamo sapere con certezza chi lo ha rubato, però sospettiamo che il furto sia legato a uno dei tre gruppi di loschi individui che sono apparsi di recente sull'isola, uno è una ciurma di pirati che ha invaso il territorio arrivando dalla spiaggia, un altro è una compagnia di mercenari che si è accampata nel cuore della giungla, il terzo è una banda di wild folk che non ha fatto altro che terrorizzare l'intera foresta, contiamo su di voi per trovare il colpevole, recuperare il gioiello e salvare Jumanji. Aspetta, stai dicendo che stavolta dobbiamo scontrarci con tre boss diversi? Mi sa che rimarremo qui un bel po'. Questo è lo spirito giusto. Allora, siccome Jumanji è un territorio molto vasto, prendete questo veicolo, vi agevolerà i viaggi quando andrete a caccia del ladro. Che gioiellino! Quindi cammineremo meno stavolta? Grande! E comunque stavo dicendo, a riguardo del movimento labiale dei personaggi, iniziano giusto leggermente e poi dopo si fermano, quindi si stoppano. Vabbè, comunque. Dunque allora, suggerimento, usa LS per guidare... Oddio no, aspetta, ma veramente con... Ok, guido io. Reggetemi forte! Eh, vabbè, però. Se vorrei tornare a casa intero. Sì, vabbè, mo' aspetta però a ritornare intero a casa, eh. Mo' devo prima fare un po' di... di conoscenza del gioco. Ma andò, andiamo? Non c'è una mappa? Non c'è un qualche cosa? Magari che... Aspetta. C'è un forziere, posso scendere in qualche modo? Faccio suono, si apre da solo? Scusa, eh, giovanotto. Una guida un po' più... un po' più semplificata, no? Occhio! Che se qua ci buttiamo a mare... No, aspetta però. Eh, allora, non è che poi mi dice tra le altre cose dove dobbiamo andare? Siamo rimasti in... Ah, ecco, ok. Siamo rimasti praticamente impantanati qua, però... Di qua invece? Qua c'è dell'altro. Occhio, mi sa che dobbiamo andare di qua. Ah, ok, no, adesso ho visto praticamente in basso a destra la bussola. È questo? Aspetta, eh. Allora, avventura nella giungla inizia, però possiamo passare di qua? C'è un incrocio sulla mappa, ma dobbiamo abbassare il ponte per attraversare quel fiume. Ok, vediamo. No, aspetta, che vediamo? Oh, giovane. Questo qua invece? Dunque, se mi dice di... E il problema è che se mi... No, mi sa che non posso andare di qua. Quindi, occhio, occhio, occhio. Quindi mi sa che dobbiamo andare per forza di cosa qua? Nella giungla. Allora, Smolder, Ruby, Topo. Oppure il professor Shirley. Allora, vediamo un po'. Finbar. Bravestone. Oberon. E Rondaus. Allora, seleziona personaggio. Vediamo un po'. Io mi posso prendere lui? Il dottor Smolder. Equipaggiamento. Guanti. Guanto di cuoio. Guanti del... Vabbè, ok. La skin preferita. Che poi non è vero. E qua niente. Ehm... Allora, se io voglio selezionare lui... Quindi credo che siamo noi ad andare con lui. Con Smolder. Premi LB per accovacciarti mentre corri per scivolare. Ok. Ma dove sono? Ah, ok. No, pensavo che... Sconviggi tutti i nemici. Mo sta va a dire dove siamo? E intanto siamo qua. Abbiamo tre cuori. Ok, dai. Devo dire che è molto bello. Molto carino. Allora. Questo qui è per scivolare. Questo qui è per accovacciarci. No, voglio vedere prima un pochettino i comandi. Saltiamo. Occhio, aspetta. Stacchete. Madonna mia, i pro. Vai qua. Aspetta, questo qua è un forziere. Apri. Delle... Ah, ok. Questi qua ci danno praticamente le monete. Buono a sapersi. Aspetta. Occhio, occhio. Attenti. Il passaggio è stretto. Sì, ma... Si può sapere dove stanno gli altri amici miei? Occhio. Che se caschiamo di qua famo un botto. Ma mi dice anche... Oddio. Mi dice anche... Punto di controllo raggiunto. Se perdi tutte le vite, ripartirai dall'ultimo punto di controllo, eccetera, eccetera. Quello che mi aveva fatto capire prima, quando abbiamo selezionato la difficoltà. Questo invece posso... Ah, ok. Quindi, allora, posso prendere a testate praticamente tutto. Non mi dite che mi devo buttare là. E che però, comunque... Cioè, voglio dire, no. Non... Eh. Appunto. Ehm... Allora, qua vedo un accampamento, però. Aspetta. Ah, ok. Ok, no, era... È una mo... La chiave è una molla. Quindi è molleggiato. Ok. Apriamo anche questo altro... Benissimo. Scrigno. Guarda qua quante monete. Occhio giovanotto. Ah, aspetta. Mi sa che ce ne vogliono due. Una blu e una rossa. E sicuramente quella rossa sarà qui. In basso a sinistra. Dove ci sono i mega cosi là. Allora, per poter arrivare là sopra non ho capito come faccio. Per poter arrivare qui. C'è un mudo per poter arrivarci. Mi sa di sì. Ok. Aspetta. Ole. Occhio. Perfetto. Come detto, sicuramente quella rossa... Occhio, occhio. No, aia. E dai, muori. No, aspetta. Quella lì è... E mo' come la faccio a prendere quella io? Come faccio a prendere... Mi sa che dovevo saltare su uno dei... Dei vermoni. Dei cosi là. E poi tra l'altro come faccio anche... Ah no, aspetta. Allora, tornare un po' più di qua non posso tornare. Giusto? E mi sa di sì. Dunque, vediamo un po'. Cerchiamo di mettere almeno la prima chiave. No. Niente. Mo' stavo per dire una bella cavolata. Allora, una l'abbiamo messa. Ci manca quella rossa. E se ci manca quella rossa, praticamente... Ah, io posso anche andare in acqua, vuole. Sì, posso anche andare in acqua, volendo. Occhio. Ah no, non è vero. Eccola qua, dov'era. E allora quel coso là sotto là, che cos'era? Aspetta, hai fatti una bella nuotatina, vuole. Ma a posto. Eeeh, sto coso qua sotto. Allora, che roba, eh? Quel coso là. Quello lì della Jay. Che poi non ho capito manco come faccio per poterlo... Ah! Suggerimento. Hai appena trovato una lettera di Jumanji? Tieni gli occhi ben aperti per non farti... Ah! E non ho manco fatto... O meglio, non ho neanche finito di leggere. Perché scompaiono un po' troppo presto sti cosi. Quindi vari tipi di suggerimenti, eccetera, eccetera. A posto. Salve, che c'è permesso che si vuole. Occhio. E vabbè, però aspetta, ma non è che io posso saltare sempre addosso a tutti. Ma li posso pure pigliate state, no? A testate no. Aia. Aspetta, ok. Ottimo. Eh, no. Aspetta, quello lì che roba, eh? Non lo so. Mo vediamo, eh? Mo proviamo. Eh, a che mi serve sto coso qua? Non lo so. Occhio. Tacchete. Ah, forse dovevo andare per forza di così di là. Aspetta, ok. Questo che roba, eh? Ah, abbiamo un boomerang. E ho ottenuto un potenziamento. Ogni personaggio dispone di un insetto unico che... E niente. Quindi. Ok. Bene. Che tristezza. Un villaggio abbandonato. Ma non è vero. Comunque, sicuramente troveremo qualcosa di utile qui. Sbrigatevi, secondo me ci stanno osservando. Mmh. Sì, quello là, infatti, è quello lì che c'aveva molta, molta paura. Aspetta. Funziona, funziona, funziona. Ok. Ok, dai, funziona, dai. Occhio giovanotto. Che ti arriva un boomerang in testa. Allora, aspetta. Possiamo raggiungere quota. Ma che roba è sto? Che so, sti cosi? Ma mi somigliano dei cani. No, aspetta. Ok. Tanto le monete vengono direttamente a casa mia con me. Ottimo. Che si può? Si può, si può. Ah, è vero, è vero. C'era la... C'era la salita lì. Grande. Con scritto anche exit. Sicuro. Ah, ok. Quindi allora sono praticamente delle lettere che vanno a comporre, credo, la parola Jumanji. Aspetta, che cos'è che mi voleva farvi dire? Un attimo, è giovanotto. Ah, no, mi fa vedere praticamente il personaggino, ok. Allora, di qua non c'è niente. C'era soltanto quella roba là. Quindi, cerchiamo quantomeno di stare attenti. Sì, no, vabbè, per scivolare, lo so, l'ho capito. Però, aspetta. No, non possiamo andare... Non possiamo arrivare lassù. Ok. Oddio. Aspetta. Possiamo girare a largo? No, eh. Aspetta. No, 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 no. Non si sa mai che questi qua te magnano. Oddio. Non l'ho manco beccata. Aspetta. Giovanotto, lei? Ci provi? No, niente. Visto dall'alto? Oh, è niente. No! Sono andata a finire in bocca al coso là. Grazie. Ok. Perfetto. Scusi, un'altra spintarella. Ok, grazie. No, aspetta. Mi sa che... Potevo andare anche lì. Grazie, caro. Gentilissimo. Ok. Olè. Ottimo. Dunque, salve. Che si può? Ci è permesso? Ma. Allora, 18.000 strade. Ma che bellezza. Non se soffri di vertigini, però. Appunto. Cioè, il sottoscritto ne soffre tanto di vertigini, quindi... Fate un po' voi. Occhio giovane che ti arriva... No, aspetta, ho sbagliato. Tacchete. Olè. Perfetto. Posso andare di qua, sì, però... Non c'è niente di qua. Sicuramente su quella roba là si muore. Quindi è meglio non andarci. Che è meglio. Perché non vorrei far una brutta fine. Sicuramente mo' devo saltare qui. Eh, quello è il problema adesso. Eh, no. Mi sa che ho sbagliato. Scusate. Aspetta. Ah, no. Mi sa che ho fatto giusto. Fatemi vedere. Eh, credo... Annaggia. Ho perso l'ascensore. Scusate. Aspetta. Occhio. No. Perfetto. Eh, ole. Madonna. Ho rischiato la vita, eh. Apri. Oh, apri. Uh-huh. Ok. Aspetta. Occhio. Scendi di qua. Scendi di qua. Piano. No! No, perché non avevo... Oddio, no. Aspetta. Ma che devo fare qua? Puri parkour? No. Ok. Altro check point attivato. Ecco là. Ciao, eh. Salve, cari. Salve, cari. Buonasera. Aspetta. Ah, li possiamo pigliare pure a pugni. Ok, ottimo. Aspetta. Ok. Ottimo, ottimo. Vai, vai, vai. Piglia tutti quanti a calci a pugni qua. Oh, giovane. Che fa? Non è manco salito che già subito lo abbiamo fatto. Fuori, eh? Vabbè. Comunque. Damos. Questo posto mi inquieta. Eh, guarda. Non dirlo a me. Oddio! Non l'avevo mica visto. No? No. No, no. Aspetta. Oddio, ma che... Ma che roba è? Aspetta. Che dite? Ce la facciamo a prendere le... Ok. Le monete ce l'abbiamo fatta. Eh, ok. Oddio. Salta. Milioni di trappole. Oh no, aspetta. Oh, cacchio. Non ho fatto in tempo a leggere, ma... Va bene lo stesso. Ssshh. Silenzio. Raga? Ma è quello che penso? Una tigre siberiana che non è esattamente originaria delle foreste equatoriali. Da punto. Ecco. Mo? Che dobbiamo fare? Dobbiamo pure combattere contro la... La tigre qua. Aspetta, eh. Eh, niente. Occhio. Vediamo un po' dov'è che mi devono far arrivare. Ah, ok. Qua sopra. Eh, no. Con questo qua mi sa che ci vuole. Lui. Mi scusi, è buon uomo. Lasci fare. Grazie, caro. Aspetta. Grazie mille, caro. Eh, là c'è una gemma. Aspetta, eh. Riusciamo? No. Sicuramente ci muoio. Ah no, aspettate. C'è l'altro... Ippopotamo lì. Scusi, eh. Un attimo di pazienza che mi... Sistimo un attimo. Grazie, caro. Molto gentile da parte sua. Oddio, non è che poi dopo alla fine, ragazzi, prendiamo tutte ste gran monete. Eh, c'è possibilità di salire qui? No, non posso. Perché non posso? Mi sa che dovrei saltare da su questo e arrivare lì. Eh, no, ma non ce la posso mai fare così però. Ah no, aspetta. Ok, mi sa che adesso ho capito. Occhio. Fatemi vedere se la mia teoria è giusta. Sì. Aspetta. Occhio. Emo? Come faccio? Ok. Eh, posso salire su questo? Dimmi di sì. Grazie, caro. Eh, niente. Ancora voi? Eh, basta. Ok. A posto. Andiamo avanti, va. Eh, vabbè. Oddio. E mo? Eh. Come devo fare mo qua? Ma mi devo buttare proprio di sotto? Vabbè, io vado. Ah no. Ah no, ok. Pensavo che fossi morto. No, cavolo. Dovevo prendere la gemma. Aspetta. Occhio. No, non avevo capito. Pensavo che fosse una cutscene. Ok, abbiamo preso anche... Eh, cavolo. Mi sa che ne abbiamo saltate un paio. E mo? Dove vado a trovare io. Peccato. Se riusciamo quantomeno a trovarle, le troviamo, se no... Allora, fase completata. 466 monete. Ne abbiamo saltate praticamente due. Sconfiggi tutti i nemici. Continuo. Eh, livello 1. Continuo. Vabbè, dai. Comunque, mappa del mondo. Jumanji. Noi praticamente dovremmo arrivare lì. Non lo so, comunque. Consigli per attaccare? Vabbè. Questo praticamente già lo sapevo. Allora, questo qua... Eh, già l'abbiamo fatto, però sicuramente 3 stelline. Vabbè. Diciamo che potrebbe pure andar bene, su. Eh, che dite ragazzi? Ci vogliamo fermare qui? Oppure vogliamo continuare? Vabbè, dai. Facciamocelo un altro giro, va. Ok, dai. Eh, no. Questa volta... Vediamo un po'. Possiamo... Possiamo pure cambiare, eh. Vabbè, dai. Andiamo con Ruby. Per ottenere dei fantastici potenziamenti delle armi. Ok. Allora, come voglia, si chiama lì Ruby. Andiamo. Distruggi le quattro statue. Eh, guarda. Io sento il rumore di acqua corrente. Non mi piace molto l'acqua corrente. Siamo solo al secondo livello. Cosa potrebbe succedere di così brutto? Eh, guarda. Già che l'hai detto, sicuramente succederà di tutto. Occhio. Allora, questa qua dà calci. Bene. Perfetto. Ed è già... Ah, no, aspetta. Lì dà calci. Però quando è in movimento avete visto che ruota anche. Ok. Damose. Allora, primo checkpoint è... Mi devo buttare in acqua, in pratica. Sì. Aspetta. Ecco. Già che devo stare a fare il giochini, mo. Occhio. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Eh, vabbè, però ogni volta non c'è bisogno che dici sempre sì. Aspetta. No. Eh, no, 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 no. Eh, niente, signore, ho sbagliato. Dovevo prendere la G, là. Eh, mo, come fai, mo? Vieni qua, vieni. Aspetta. Ma questo qua se lo faccio così? No. Mi sa di no. Eh, quindi, mo, che devo fare? Mi devo buttare di qua? Credo. Oh, cavolo, no. Oddio. Aspetta. Madonna, signori. T'ho visto praticamente male, eh. Ah, sono delle scimmie che lanciano un'opera di tocco. Eh, appunto. Scusa, eh, signorina scimmia. Occhio qua, eh. Allora, aspetta perché qua c'è... No, mi devi saltare qua so. E niente, che non mi salta? Allora, il primo livello diciamo che era abbastanza semplice, eh. Però questo qua mi sa che è un pochettino più difficilotto, però, eh. Occhio. State zitta, state ferma. Dai, è così. Olè. Ma a posto? Oh, signor. Eh, dai, eh. Allora, ah, cavolo, lei ha proprio gli shuriken. Bene. Ah, però ne abbiamo 19. Eh, grazie. Abbiamo dimenticato praticamente la J. Non ditemi che li posso pure recuperare. Sicuramente sì. Oh, signor. Eh, dai, eh. Mi sa tanto, cara ragazze, possiamo pure recuperare i shuriken che noi lanciamo. State ferma. Oh, cavolo, mi ha beccato. Mezzo cuore, vabbè, dai. Mezzo cuore lo possiamo anche digerire. Ecco, là. Occhio. E niente, signori, si va di nuovo in acqua, però. Io mo prendo questa. Se facciamo... No, no. E ti devi arrampicà, però, signora. Aspetta. Eh, no, niente. Occhio. Aspetta. State ferma. Olè. Olè. Dai, eh. No. E ci muo. Oio. Apri. Sacco di monete. Olè. Posto. Oddio. Aspetta. Occhio. Un sacco di monete, sì. Occhio. Però... Te devi stare pure attenta, signora. Vabbè. Na ma nuoto, va. No, cavolo. C'era la M là sopra. Ma dai, ma lo vedi che me lo fanno apposta, però, sti disgraiti. Aspetta. Sali sulla barchetta qua. No, devi salire sulla barchetta, signor. Non che ti devi lanciare a tuffo. Aspetta. Ok. Altri shuriken. Dai, raggiungi sta cavolo di canotta qua. Eh, niente, signori. Sto livello mi sa che è andato un po' a farsi benedire. Lascia fare. Lascia fare. Buon uomo. Aspetta. Eh, come detto, ragazzi, mo' mi sa che tornare praticamente indietro non mi pare proprio il caso. No, sapete che cosa? Perché mi volevo andare a prendere la M. Eh, ma la M. Non è che è tanto semplice riprendersela, eh? Eh, infatti, qua è già finito tutto, in pratica. Devo dire che abbiamo raccolto più monete con Ruby che non con l'altro. Che non mi ricordo manco il nome. Scusate. Un po' di vuoti di memoria. Occhio, signor. Eh, niente. Manco beccata. E basta. Volevo recuperare la M. Ma mi sa che non la posso recuperare adesso. Perché mo' Praticamente la corrente mi spinge In avanti. E niente, signori. Mi sa tanto che la M Può andare a farsi benedire un attimo. Eh, sì. Purtroppo sì, ragazzi. Non me ne volete, ma purtroppo non Non ci avevo fatto minimamente caso. E basta. Aspetta. L'A, l'A. No, no, no. L'A la voglio prendere. Almeno quella. Ok. Abbiamo la U. E l'A. Aspetta. Dai. Ma siamo praticamente morti. Sì, siamo praticamente. Ah, no. Non mi dovevo buttare là. Pensavo che mi dovevo buttare lì. Aspetta. Occhio. Aspetta che qua non si sta a vedere niente però. Signora. Scusi, eh. Guardi che là. Occhio. O lì. Ok. Occhio lì, eh. No. Dove vai? Ok. A posto. Aspetta. No, ma ha beccato malamente la schiena. Vabbè, dai. Lo lascia fare. Ciao, eh. Scusate. Aspetta che là, mo' c'è la M. A posto. Occhio. No, perché con gli shuriken, purtroppo, non so ma... Eccala. Cioè, perché io miro da una parte... Eccala. Aia. Sono morto malamente. Perché... Sapete che cosa? Perché con lo shuriken non va mai preciso. E quindi, mo' che sono arrivato qua, che devo fare? Devo attivare qualche cosa. Come minimo. Eh, no. Aspetta. Questi qua, però, non muoiono. Per quale motivo? Hmm. C'è quel quadro che non cosa. Eh. Scusate, ma sta cosa qua che sta ancora avanti e indietro qua. Sta ancora a molleggiare qua, eh. Eh, dai. Ma non ditemi che le devo ammazzare praticamente a tutte. Eh, niente. Ok. Andata... Andata pure questa. Andata pure lei. Ah, non abbiamo più shuriken addirittura. Bene. Ce li siamo praticamente giocati tutti. Eh, vabbè. Comunque. Damos. Occhio qua. Occhio qua. Allora, come detto, come... Eccala. Scusate, scusate. Un attimo di pazienza. Ottimo. Eh, vabbè. Però questi qua ricicciano come... Se non ci possono domani. Aia, ma ammozzicato. Sto brutto, male educato. Ma ammozzica tua sorella. Se ci muoio, ma qua me... Me... Me incazzo male, eh. Eh, quindi? Che devo... Ah, mi devo buttare? Vabbè. Buttamose, buttamose. Aia. Madonna, ammazza che botto. Eh, no. Che cacchio. Ma dai. Ma non ci credo mai nella vita. Non ho preso nemmeno il... Eh, no. Non ce la faccio ad arrivarci. No. Non ce la posso mai fare. Eh... Occhio. Piano. Ragazzi. Sentite anche voi i tamburi? Eh, sì. Guarda. Ah, non lo so. Muochi da me. Aspetta. Occhio. Eh... Allora, quelli là sono praticamente tuoni. E quindi è meglio evitarli, sti tuoni. Scusi, eh, signora scimmia. Ma ho qua i tuoni nell'acqua. Non è che sono una gran cosa, però, eh. No. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Sali qua. Perché forse magari c'ho... Fuca priorità che mi possa beccare. Salta. E salta. No, 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 no. Non così. Non così, signora. Aspetta. Occhio. 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 Dov'hai? Aspetta. No, perché, cavolo, è un po' difficile. È un po' difficile. Aspetta. Occhio. No, dov'hai? E niente, vabbè. Fa come te pare, va. Tanto io volevo pure... Praticamente evitarlo. Però, mi sa che... Evitandolo... Non ci giurerei così tanto a evitarlo. Aspetta. Aspetta. Pensavo che quella lì si rompesse, ma intanto no. Aspetta. E niente, mi ha beccato malamente. Sta stronza. Salta. Cacchio, cacchio. Aspetta. Occhio. Dove siamo andati a finire? Non lo so. Ma ste brutte stronzette qua. Dove siamo? Dove siamo? Non lo so. Aspetta. E niente. Oh, ma non è che salta come deve saltare pure questa, eh? Cioè, voglio dire, mi sto a spaccare la schiena. E niente. Vabbè, va. Piglia almeno questo, va. E non l'ha manco preso. E piglia sto coso. E niente. Allora, altra acqua. Occhio, occhio. Che qua si muore. Questi spuntoni qua. Ok. No. Penso proprio di no. Ok, allora continuo. 700 monete. E arrivederci. Distruggi. Ma come? Ma non l'ho fatto? Distruggi le quattro statue degli animali? Ma mi sa che però non l'ho fatto. Oh, santo Dio. Non ditemi che l'ho lasciato così. Vabbè, comunque. Ok, ragazzi. Ok, allora. Arrivati a questo punto. Io direi di concludere qui questo primo episodio della serie di Jumanji Wild Adventures. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. E mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, a condividere il video. E noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.